Scaricati da un camion in mezzo a una strada, poco fuori dalla A4, all'uscita di Porto Gruaro. Sarebbero circa 40 i clandestini abbandonati, in balia di se stessi in un paese che non conoscono, alla ricerca dei quali polizia e carabinieri stanno passando al setaccio i paesi della zona. Una ricerca che si spinge anche oltre il confine col vicino Friuli. A lavoro ci sono anche la Guardia di Finanza, la Polizia Locale e la Polstrada, che sta consultando quanto girato dalle telecamere attive sulle autostrade. L'autista del mezzo rischia la denuncia per l'introduzione di immigrati clandestini. Finora sarebbero state rintracciate una quindicina di persone di origine medio orientale. Appena ho saputo della notizia dell'arrivo di queste persone nella nostra zona, ho subito telefonato alla quindicina di persone, ho parlato con il dottor Cento, innanzitutto per la preoccupazione che si fosse creato un ulteriore corridoio di presso, questo è il dato numero uno, e secondo perché effettivamente fossimo tutti tutelati rispetto alla verifica sanitaria delle persone che arrivano nelle nostre zone. Sulle tracce dei migranti siamo sei infatti anche rules. L'emergenza coronavirus carica ora vicende come queste di una preoccupazione ulteriore, quella sanitaria. Da coloro che al momento sono stati rintracciati e che saranno sottoposti a tampone, sarà probabilmente possibile ricostruire rotta e modalità di un ingresso in Italia avvenuto in termini fino ad ora inediti. Per quella che è la sua memoria è la prima volta che capita un fatto del genere, vale a dire che vengano abbandonati vicino all'autostrada delle persone. Per quanto non cerchi a io sì. Per quanto non cerchi a io sì. Se ci fosse una nuova rotta evidentemente c'è qualcuno che li trasporta. Quindi questi personaggi che trasportano delle persone in maniera prendestina devono essere controllate, devono essere verificate e devono essere fermate.